Sono venuta apposta perché io non sono di Milano e quindi sono venuta apposta oggi a entrare, a vedere perché mi sembra una cosa, un bel messaggio insomma, aprire il Duomo è importante per i milanesi e non. Finalmente, guarda, lo speravo perché da tanto che volevo andarlo a visitare anche se sono milanese, però non sono mai riuscita ad andare per le code immense che ci sono, quindi oggi sarò sicuramente la prima ad andarci, adesso mi metto già in coda e vado. Sì, infatti, a quanto punto adesso io ho prenotato la visita anche per il museo e l'assistore archeologico e tutto perché comunque erano anni che non entravo più, ho detto ne approfittiamo. Ho azzeccato la giornata giusta, ho visto il bel tempo, ho detto vado a farmi un giro a Milano e voglio entrare in Duomo come sempre. Vuol dire ricominciare di fatto, vuol dire ritornare a poter fare quello che si poteva fare prima. Certo, speriamo bene che vada avanti così sempre per il meglio perché insomma si diventa anche tristi, depressi, meglio così. Sì, magnifico perché io l'avevo visto la scorsa estate quando si poteva naturalmente ed era stato un grande piacere. Sono contenta che si possa rientrare per il nostro Duomo insomma. Vederlo chiuso fa un po' male.